Assessore, il 15 settembre riaprono le scuole, ma gli istituti padovani in che stato di salute stanno? Gli istituti padovani stanno in uno stato di salute buono, abbiamo dei lavori in corso, abbiamo precisamente nella scuola secondaria di primo grado Cellini, la manutazione straordinaria per il rivestimento esterno e poi per la scuola primaria Forcellini di via Filiasi, per la scuola primaria Manin di via Treganofani e per la scuola primaria Gozzi di via Montanari invece abbiamo la sostituzione dei serramenti, questo per rispondere degli infissi, per rispondere alla normativa di sicurezza e anche dell'efficienza energetica. Stiamo parlando di lavori finanziati dal comune o finanziati con i soldi che ha promesso Renzi e che quindi sono in arrivo da Roma? No, stiamo parlando di interventi sull'edilizia scolastica finanziati dal comune, gli importi sono 235 mila euro, 160 mila euro, 130 mila euro, 112 mila euro. Per quanto riguarda gli importi promessi da Renzi, sono arrivati, arriveranno, ma riguardano soltanto quattro scuole e poi devo dire che sono importi veramente esigui e in questo senso ci saremo aspettati un aiuto più sostanzioso e più cospicuo per le scuole, soprattutto padovane, considerando quanto poi il comune e la regione versa a Roma. Ecco, si parla di scuole belle perché c'erano tre progetti, diciamo, di Renzi. Sì, sono tre importi per 7 mila euro, uno per 14 mila euro andranno precisamente alla scuola statale dell'infanzia La Quilone di Via dell'Orna, la scuola dell'infanzia statale Boranga di Via Benedetti, la scuola dell'infanzia statale Collò di Via Narni e quella che prenderà di più 14 mila euro, la scuola primaria Reggio Acararesi, Corte Arcao, Vallaresso. È il progetto Scuole Belle, ma insomma con questi importi c'è veramente la piccola manutenzione e un po' di decoro. Certo, non risolviamo assolutamente problemi che possono essere strutturali o di rinnovo dell'edificio, questo rimane sempre a carico del comune. Ora come ora ci sono delle priorità di intervento in qualche scuola in particolare? Beh, noi abbiamo risposto a quella che era la richiesta del Premier Renzi di segnalare le priorità di intervento, abbiamo inviato un progetto per la scuola Artigò, chiediamo un finanziamento per l'importo di 700 mila euro, stiamo ancora aspettando e io voglio essere fiduciosa in questo senso, anche se insomma mi aspetto che Roma e il Premier Renzi restituisca quanto i nostri cittadini versano lautamente a livello di tasse e quindi meritano di vedere poi i finanziamenti erogati per gli interventi sul territorio.